www.redigio.it e la storia continua Quando il carcerato pagava la pigione Gabbioni e pagliazze Fino a tutto il Cinquecento il carcere svolge in linea di massima Un ruolo abbastanza marginale nel sistema delle pene Tuttavia, al di là delle dichiarazioni di principio Il funzionamento della giustizia imponeva l'esistenza di buone strutture detentive Si nota però una generale riluttanza Che, per gran parte del Medioevo, ad adottare soluzioni permanenti E a costruire cioè edifici espressamente concepiti Per svolgere la funzione di penitenziario Preferendo prendere in affitto temporaneo Da privati abitazioni, stanze o cantine Per adibirle allo scopo Dopo una battaglia vittoriosa Le rimesse e le stalle dei cittadini si riempivano dei prigionieri vinti Che costà venivano lasciati in attesa del riscatto o di una morte di stinti Nel 1380, per ospitare la massa di prigionieri genovesi Catturati durante la guerra di Chioggia Il governo veneziano fu costretto A prendere in affitto un granaio vuoto Situato alle spalle di Piazza San Marco Battezzato per l'occasione i Gabbioni Non diversamente avveniva per i criminari O comunque per coloro che avevano adottato un comportamento antisociale Così ad esempio a Firenze Per lungo tempo vennero adibiti a carcere I sotterranei dell'antico anfiteatro romano In seguito abbiamo notizia di diversi edifici Per lo più torri sparsi per la città Adottati allo scopo Uno dei quali prossimo all'abitazione di Dante Presso la chiesa di San Martino del Vescovo Pagliazze Era il termine generico Che individuava queste strutture Quando poi venne istituito Un luogo di detenzione femminile Separato dagli altri Esso fu battezzato Pagliazza delle donne L'emanazione delle famose leggi antimagnatizie Che sulla fine del 200 definivano Le casate considerate nemiche del bene comune E le escludevano pertanto dall'accesso al governo Impose l'individuazione di un'ulteriore pagliazza Denominata per l'occasione Pagliazza dei magnati Destenata ad accogliere detenuti Di questo alto locato ceto sociale Burrella è un altro termine Che in antico toscano Serviva a connotare un luogo di detenzione La parola sembra da associarsi ai corridoi O ai cunicoli Comunque apertugi Ricavati all'interno dell'edificio Fino al 1290 Servì da carcere anche la torre della Bellanda Così chiamata dal nome del proprietario Ma la torre per l'eccellenza Adibita a tale scopo Era quella del palazzo del Podestà Denominata la Volognana Dal nome del suo primo occupante Il nobile Ghibellino Geri da Volognano Obbligo di soggiorno Anche a Venezia Troviamo una situazione simile Ogni sestriere al suo casone Piccola prigione periferica Amministrata dai capi di sestriere Mentre il palazzo Ducale Ospita nella torre denominata Torre Sella Il carcere principale A Venezia troviamo anche in uso Un trattamento di particolare favore Per coloro che Accusati di lieve mancanze O di debiti non soluti Fossero spontaneamente Comparsi di fronte ai magistrati Rinunciando a tentare la fuga I presentati Una volta fattesi registrare Dagli scrivani comunali Come carcerati A costoro veniva assegnata La reclusione all'interno Della corte di palazzo Vale a dire il cortile del palazzo Ducale E le sue adiacenze Quindi in pratica Non potevano trepassare i ponti Che portavano fuori dall'isola di San Marco Di fatto A questi singolari reclusi Si imponeva semplicemente Di starsene tutto il giorno A girovagare per piazza San Marco E di provvedersi autonomamente Di un tetto per la notte Magari prendendo una stanza in affitto Va da sé Che una simile sistemazione Sembrava fatta apposta Per essere violata Ed erano molti di quelli Che una volta iscritti Nei registri comunali Se ne tornavano tranquillamente Ai loro fari in giro per la città Contro tali abusi Insorgevano periodicamente i legislatori Senza peraltro Attivarsi concretamente Per ovviare la situazione Tra la fine del 200 E gli inizi del 300 Si notavano le prime iniziative organiche In materia da parte Delle autorità comunali Il fenomeno Va inquadrato Nel più generale Processo di passaggio Dalle strutture Comunitarie Di esercizio della giustizia A quelle più impersonali pubbliche Dello Stato In senso moderno E la puntata Non è finita qui Ma continua con la prossima www.redijow.it E la storia continua Dello Stato Dello Stato Dello Stato